Che ora sono? È luna? Oh mio Dio! È tardissimo! Come mai ha dormito così tanto? Tesoro? Tesoro? Ken? Ma dov'è? Ah, è vero che oggi andava a lavorare presto, mi sono dimenticata. Beh, farò colazione. O meglio, visto che è luna, pranzo. Posso fare un brunch. Vediamo cosa c'è nel frigo. Uova, latte... Una torta di mele! Perfetto! E c'è anche una pizza! Potrei mangiare dolce salato. Sì, perché no? Ah, cara pizzettina, ora ti scaldo nel forno e poi ti mangio. Che profumo questa torta! Nel mentre che aspetto potrei assaggiarne un pezzettino. Mmm, che profumo! Solo un pezzettino, dai! Oh, ma come ne ho preso un pezzettino e ora è sparita! Oh no, l'ho mangiata tutta! Che fame che ho! Pizzettina, sei pronta? Ora ti mangio! Tesoro, sono a casa! Ciao, amore! Scusa, sto ancora mangiando, sai mi sono alzata tardi oggi. Vuoi una pizza anche tu? No, 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 guarda. Ieri sera sono stato alzato fino a tardi perché mi sono fatto una torta di mele, quindi mangerò un pezzo di quella magari. Eh, sì, insomma, non ne ho voglia di pizza, mangerò del dolce. Eh, Ken, la torta di mele l'ho mangiata tutta io. Hai mangiato tutta la torta di mele? Sì, avevo molta fame, sai, ho messo insieme colazione e pranzo. Ma Elsa, era una torta di mele intera! Oh, non ci posso credere! Cioè, veramente non è giustificabile a meno che tu non sia incinta. Oddio, adesso ve lo devo dire, caspita, in questo modo, volevo dirglielo meglio. Elsa, sei incinta? Sì, sono incinta, tesoro, volevo dirtelo in un altro momento. Però, insomma, è capitato, quindi ora te lo dico sì. Per questo che mangio così tanto, ho sempre fame. Cosa dici? Oh, Elsa è una notizia meravigliosa! Ma è stupendo! Davvero? Certo, tesoro! È una notizia meravigliosa! Speriamo solo che... Speriamo che cosa? Beh, che il nostro figlio abbia i miei capelli! Ah, non è divertente, Ken! Proprio, non è proprio divertente! Me ne vado! Ma, eh, sarà solo uno scherzo, dai! Bye! Grazie.